Ieri sera abbiamo annunciato che il mercoledì avresti corso, avresti fatto questo record dei 75 anni, la sfida al buratto, stasera abbiamo visto una discussione un po' accesa con l'istituzione, perché? Con l'istituzione perché indipendentemente che volevo chiarire la motivazione, è venuto il responsabile, oltretutto si dice che sia un senese, che poi ci siamo appacificati, però mi ha detto lei a 75 anni l'assicurazione non copre, è andato via, 20 minuti che aspettavo per poter interloquire con lui. C'è l'illusione, ho perso anche un po' di tempo per prepararti quel pochino, non è che sono 5 mesi che mi alleno, ma insomma un mesetto mi sono preparato un pochino per affrontare sto ragazzaccio qua dopo tanti anni e insomma ci contavo. Abbiamo preparato gli striscioni ricordando le vecchie carriere vittoriose di Mario Capacci ed eravamo pronti con le bandiere, con il tifo per celebrare una persona che ci ha regalato così tante gioie, quindi siamo molto delusi.